Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico verso sud, tra Valdarne e Arezzo, verso Bologna, tra Calenzano e BV1 Variante. Sulla Firenze e Mare un chilometro di coda per incidente, tra Pistoia e Prato Ovest, nella carreggiata verso Firenze. Ci spostiamo sulla 12, dove troviamo un chilometro di coda per lavori, tra Versile e Massa, nella carreggiata verso Genova. In Fipili restano coda tratti per traffico tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Per il traffico aereo segnaliamo numerose cancellazioni per uno sciopero Ryanair per i voli da e per Firenze. Lo sciopero è stato indetto per le giornate di oggi e domani. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!